Un coordinamento tra le principali associazioni che hanno a cuore la salute del mare, quello che bagna le coste della Tonnara di Palmi, di San Ferdinando, di Gioia Tauro e Nicotera, per condividere, valorizzare e rendere più efficaci le azioni che vengono messe in atto per tutelare le acque del Golfo di Gioia Tauro. E' stato questo il primo approccio delle associazioni che da anni sono in lotta per contrastare il mare inquinato, che hanno avuto una prima riunione a Palmi e a cui hanno partecipato l'Associazione Turistica Tonnara, il Circolo Arminio, Associazione Prosalus, Fogli di Luna, tutte operanti nel territorio di Palmi, e poi quelle di Gioia Tauro come il Tavolo Tecnico di Tutela Ambientale e l'Osservatorio Ambientale Iride. Il Comitato 7 Agosto di San Ferdinando e il Movimento 14 Luglio di Nicotera. Oltre a queste associazioni ambientali, era presente anche il Sindaco di Gioia Tauro, Aldalessio. Obiettivo che tutti i partecipanti si sono dati è molto futuribile in questo particolare momento ed è l'ottenimento della bandiera blu per tutta la costa. Ma per raggiungerla bisogna lavorare tanto. Le criticità sono moltissime, a cominciare dai tanti scarichi abusive e dei sistemi fognari che in tante cittadine che si affacciano sulla costa sono un vero e proprio collaborodo, come constatato nei giorni scorsi dal Circolo Arminio di Palmi. Per tutti i partecipanti all'evento, la formazione del coordinamento tra le associazioni aperte ad altre presenze, oltre che necessaria, è da considerarsi non più procrastinabile. E' chiaro che in questa prima fase i primi interlocutori del coordinamento saranno i sindaci dei comuni che si affacciano sul Golfo di Gioia Tauro, che secondo i partecipanti devono essere i difensori di prima istanza del nostro mare. Gli stessi primi cittadini, che il 22 luglio, su iniziativa dell'amministrazione comunale di Nicotera, hanno costituito un tavolo tecnico permanente, insediatosi poi in un incontro a San Ferdinando. Tale tavolo, a parere unanime delle associazioni, va rilanciato e a tal fine si è concordato di invitare quanto prima questi amministratori a un incontro per definire la mappa di un percorso comune, per dare forza a una battaglia non più differibile da portare in tutte le sede istituzionali preposte.